Bella a tutti, belli e brutti ragazzoni, benvenuti in questo nuovissimo video Io sono il Tortellone Nazionale e quest'oggi ragazzoni siamo con lei La meravigliosa, l'imbrattatrice di muri, la studentessa più top di tutti E' proprio lei, MC Ebbene ragazzoni, oggi ci troviamo in questa situazione un po' strana ragazzi Dobbiamo fare queste tre partitelle però Non lo so, forse lo metterò nel titolo, forse no ragazzi Andremo a testare la nostra fortuna con le energie ragazzi Ebbene si, non abbiamo nulla da uppare nel nostro account ragazzoni Andremo a prendere tutte o quasi tutte ragazzi le energie Ci mancano solamente quelle da 500 regà che vabbè quelle lì Cioè nel senso verranno tenute lì come oracolo Perché in teoria ci dovrebbero dare proprio la mega cassa garantita Anzi le mega casse garantite Adesso andremo a testare invece quelle da 100, da 200, da 50 e da 75 energie Detto questo ragazzoni lasciate almeno 7 like Perché sono più o meno le casse che andremo a aprire in questo video E poi ci andiamo a fare anche tre partitelle Perché le dobbiamo vincere con la pazza MC Quindi bando alle ciance E andiamo subito nella mischia Ragazzi andiamo a spruzzare un po' di spray in the face Proprio regolare, tranquillo, easy Senza un problema Ecco vedi subito questa qui cassa squagliata No sono andato troppo vicino, sono un cafone Vediamo qui Zio Brocchino che vuole fare Zio Brocchino mi sa che ci vuole morire Forse ci vuole morire prima Carla Non si sa, adesso vediamo Forse no Forse invece ci vuole morire prima lui Invece io così me ne vado perché ci stavo per lasciare le penne io Adesso vediamo Brocchino che sta continuando a sparare lì dritto per dritto Come per dire Non so qui che cosa devo fare Allora Osho perché mi potrebbe zompare da un momento all'altro 3, 2, 1 No rega mi deve fare un passo falso lui rega Deve fare un passo falso lui altrimenti io qui ce lascio le penne Se zomp è la fine 3, 2, 1 3, 2, 1 Ok ci siamo Ci siamo Stava facendo lo sciocchino Stava facendo lo stupidino E alla fine è spruzzino E alla fine è spruzzino rega In the face Eh si ce l'ha beccato proprio Giusto rega È stato giusto così Adesso il problema quale sta Cioè dov'è? Dov'è il problema? Che se zompò la rega qualcuno me buca Eccolo Che me ne prendo io Questa ci si mette lei Io vado sotto Non vieni qua Eh va bene ragazzi Terza posizione per loro Lo sapevo ragazzi che stava lì Guardala 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 Non ci credo vabbè Sto Sto buon polastron Buon polastron Però ragazzi terza posizione per loro Abbiamo vinto Quindi Ok ce ne mancano soltanto due Siamo tornati ragazzi Qui nel Bolgia più vera Spawn Un po' così C'abbiamo quella Pam lì Che veramente Ci vuole truffare Però Cioè lei deve capire Che non Cioè ci deve lasciare perdere Perché noi Noi siamo studentesse C'abbiamo I cavoli nostri Cioè andiamo male a scuola Quindi La roviniamo Ok Sparatevi Sparatevi Un po' quello che sta a fare Non si è manco spostato L'ha ammazzata Mamma mia Iper Iper Cil Cil Bene Si prosegue Ehi Ehi Tu mi hai ammazzato prima Ma sorelle Che devi faa Ti squaglio un pochettino Ti squaglio un pochettino Ti squaglio Ti squaglio Tutte e due Yee 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 Ok Ci siamo Ci siamo Allora un attimo Un attimo Un attimo Ci dobbiamo scaldare Un secondino Qui le vede come la agita Come la agita Quella bomboletta Sempre carica Sempre carica Qui Chi ci sta invece Ehi Ehi tu Piccolo bull Un po' bull Come scappa Che devi fa Fratelli Che devi fa No perché non ho capito Che devi fa Fratelli Mamma mia Ti dava una squagliata Z Va bene Cinque rimanenti Ragazzi abbiamo anche uno spettatore Questo bull Non si sa che cosa vuole fare Ok bene Va bene Hai fatto quello che dovevi fare Da prima Cioè morì Bravo Bravo Grazie Adesso vediamo Per lustriamo ragazzi Questa zona superiore Non c'è una scippa Però raga Allora o zompano Da là Ok Ecco boh Sì mao Guarda come sto Zio Guarda come sto Come te sto Aspettare No giochi rega Quello che deve fa Dai Biccolo Vieni qua Che ti fa la sorpressina Tanto torti Tanto torti Come sei squagliato Ma tu che devi fa Bibi Che devi fa Mi spruzza la faccia Mamma mia Ragazzoni Sto più dieci Tortellone Tortellone ragazzi In singolo I buchi Se sei arrivato Fino a questo punto Nel video E stavi aspettando Che io aprissi qualcosa Invece non sto aprendo Nulla Ebbene sì La vado ad aprire Vado ad aprire La nostra prima energia Ovviamente ragazzi Quelle prime mi sono servite Per uppare Energy Tic E altre cosuccine Che stavano lì Comunque nell'account Un po' passivelle Quindi noi partiamo subito Con energia da 50 Se non sbaglio Se non erro Sì 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 Energia da 50 Ragazzi Ci siamo Cassa Brawl Blu Regà Lo Skype Però sia mai Che veramente Ste sette casse Ragazzi Ci facciano Max all'account Ma io non credo Io non credo Sì Prosegue ragazzi Subito quella 100 Cassa enorme per loro Iper Iper fly Aspettiamo L'aprimi Come sempre E pluff 156 di oro Il nulla Va bene ragazzi Proviamo Quella da 75 Cassa Brawl Blu Schifo più vero Non c'era forse Però regalami l'emozione Marameo Marameo ragazzi Zero emozioni per loro Allora proseguiamo Ah regà Qui iniziamo a arrivare Su quelle da 200 E devo dire che Niente Non me la dà Non me la dà Allora a sto punto Solo quelle da 500 Ragazzi Danno una mega cassa Solo quelle da Mamma mia Cioè capito che Ve voglio dire però Che cavolo mi ha dato Cioè Io non c'ho parole ragazzi Io non ho veramente parole Abbiamo un'altra da 200 Un'altra da 100 Vediamo Mamma mia Violacea Riscuoti Va bene tanto E pluff E così Niente Niente regà Nulla Nulla proprio Il nulla Cosmico Oh qui abbiamo un po' di oro Che pluff Ce lo raccattiamo Ah regà Ci andiamo a aprire Allora Quella da 100 Ragazzi Che è l'ultima Come potete vedere Sto a livello 66 Ragazzi Del pass Quindi è quasi finito Vai Vi scuotiamo La penultima Mega cassa Si mega cassa Magari La penultima cassa enorme Niente 156 di oro Ragazzi Dopo prendiamo Ok Dove sta Ok Questa da 200 Livello 58 Ragazzi Prendiamo Ci finiamo La missione Della zia Piccola Ems E poi ci andiamo a aprire The last chest Ragazzi Ve lo ricordo Devo aprire L'ultima cassa L'ultima cassa Tramite le energie Ragazzi Poi ci rimangono Di aprire Quelle da 500 Che Quelli saranno Sicuramente Dico Sicuramente Super mega Iper Casse Veramente Quelle giallette Dai 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 Quello Quello c'ho paura Perché non ho visto Nessuno Guarda che truffa Guarda che truffa Ma io una spruzzata Te la butto là E ti faccio pure La faccia cattiva Così c'è paura Sì c'è paura Siamo rimasti notti C'è sta scellona Lì che Dammi le fratelli Andiamo Ok Cinque E' il primo Regama visto Questo qui Ok Colta Addirittura Uh Scontro avvicinato Regà Terza posizione Terza posizione Vediamo Che fa il primero Lo bugamo Ok Bravo Grazie che mi hai lanciato via Chico Grazie Mi hai salvato Fratelli Con quel lancio Mi hai salvato Scontro finale Hyperfly Regà Vediamo Vediamo Perché non so Chi ci sta Peccato Regà Devo aspettare Che faccia la final Però ragazzoni Seconda posizione Per loro Easy peasy Ragazzi E se veramente Il risultato Delle nostre posizioni Busta Il contenuto Ragazzi Io spero Vivamente Poi ho scalato Pure un altro livello Quindi livello 67 Del pass Guardate l'oro Ragazzi Profusione Infatti me lo vado a prendere 300 di oro 500 di oro Mamma mia Ragazzi E' arrivato il momento L'ultima energia Ragazzi Quella da 200 E poi ovviamente Ci sono rimaste Quelle da 500 Che sono due Ragazzi Vuoi risquare Il premio alternativo Ebbene Voglio risquare Fratelli Vediamo qui Le casse Brolle Mamma mia Gli ho fatto Favore il giretto Ragazzi Aspettiamo L'aprimi Lasciate il like Ragazzi Se scappa Qualcosa E' pazzesco Fluff così Mara Mara Meo Ragazzoni Bene 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 Cioè Non benissimo Comunque sia Ancora abbiamo le casse Nuove reazioni Tanta roba Abbiamo Bloccato anche La penultima reazione Va bene Ragazzi Stiamo proprio a 3000 Mancano ancora 37 giorni Ce lo siamo sbranato Questo pass Ragazzoni Vi guardo di lasciare Un bel pollicione all'insù Di condividere il video Con i vostri amici Ragazzi Stiamo per arrivare A 80k Quindi mi raccomando Stiamo sul pezzo Come sempre E nulla ragazzoni Un bacione Un salutone Un abbraccione Dal vostro Tortellone di fiducia Al prossimo video E sempre Acatacata Pluff Stigiri 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 Pluff Stigiri 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 Stigiri